Il 9 dicembre scorso uno dei giardinieri incaricati di lavori di manutenzione alla Galleria Ricciodi di Piacenza, mentre stava tagliando il rampicante, scoprì un quadro, allora considerato molto ma molto simile a un pezzo di Klimt, in una sorta di ripostiglio sul retro del museo. La procura nominò tre esperti per verificare l'autenticità dell'opera e in una conferenza stampa il 17 dicembre il dipinto venne autenticato. È il ritratto di signora di Gustav Klimt, sparito il 22 febbraio 1997, sempre dalla Ricciodi e la notizia, in pochi minuti, ha fatto il giro del mondo. Ma non è finita qui, perché i due sedicenti ladri del dipinto hanno prima chiamato un giornalista del quotidiano La Libertà dicendo di essere gli autori del furto e poi consegnato una lettera con scritto «abbiamo fatto in modo che il quadro ritornasse a Piacenza, un regalo alla nostra città». I due uomini, due 66 anni malavitosi, erano già stati condannati in passato dalla Cassazione per un'altra storia di furti, uno a sette anni e l'altro a quattro anni e otto mesi. Bene, entrambi facevano parte, con ruoli importanti, della cosiddetta Banda del Grimaldello che tra il 2013 e il 2014 razziò case, gioiellerie e ospedali anche a Cremona, non solo città ma nella provincia, ma anche a Parma, Reggio Emilia e Lodi. 47 colpi accertati, bottini ovviamente, con refurtive speciali, quadri, sculture e gioielli. Un racconto, il loro, ha ancora tutto da verificare. Nel 2015 venne pagata una ricompensa all'uomo, un piacentino, che aveva avviato una trattativa con i carabinieri e sosteneva di poter fornire informazioni utili per ritrovare il capolavoro. A pagare allora fu la Banca di Piacenza ed è l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente onorario dell'Istituto di Credito, a confermarlo. C'è chi parla di una somma tra i 30 e i 40 mila euro e chi invece ridimensiona il tutto. Insomma, il mistero, in fondo, è ancora aperto.